Siamo col DS del notaresco Paolo D'Ercole, la partita con l'Avastese è finita veramente da pochi minuti e la rabbia è ancora tanta per quello visto soprattutto nel secondo tempo con la direzione arbitrale. Anche le immagini testimoniano il fallo, seppur ci fosse, era fuoriare. Penso che l'hanno visto tutti, penso che la cosa sta diventando un po' troppo continua, gli errori continui e troppo palesi. Non lo so, forse diamo fastidio a qualcuno, non lo so, però non è possibile fischiare un calcio di rigore due metri fuori dall'aria. Non è possibile non fischiarci un calcio di rigore, calciarci un giocatore a giornata prima. Andiamo avanti, adesso dobbiamo essere più forti, quindi dobbiamo giocare 12 contro 11, quindi impareremo a allenarci in inferiore numerica. Per quanto riguarda la partita, poi si è visto anche probabilmente che la squadra ha risentito del fatto che nell'ultime settimane ha potuto giocare poco. Sì, ma tanto oramai il campionato è diventato una sorta di farsa calcistica, perché comunque si gioca ogni tre giorni o una volta ogni 15-20 giorni. Però non deve diventare un alibi, noi siamo forti, quindi possiamo tranquillamente vincere le partite. Poi i colli si fanno, si prendono, si sbagliano. Cercheremo di essere più precisi nelle prossime partite. Poi i colli seguiti le partite. Giocatore